una buona giornata a tutti carissimi amici carissime amiche che con noi vi radunate dalle vostre case nei vostri luoghi di abitazione per pregare con noi al prima di celebrare l'eucaristia con il santo rosario quest'oggi 25 aprile festa di san marco vogliamo affidare a maria tutta l'italia nel giorno della liberazione perché come allora possiamo anche oggi essere liberati da questa situazione di grande paura di grande schiavitù schiavitù dell'anima schiavitù della situazione del male che ci sta assalendo ecco la madonna ci accompagni ci sostenga ci dia il coraggio la madonna liberi tutta l'italia da questa situazione terribile e a lei allora ci affidiamo contemplando insieme i misteri della luce mettiamo davanti a lei tutta la nostra patria mettiamo davanti a lei tutte le persone che hanno bisogno nella fisico nell'anima tutte le situazioni che conosciamo affidiamo a lei tutto quello che è il nostro vivere la nostra realtà familiare sociale nazionale Maria tu che hai attesto nel silenzio la sua parola per noi aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora Maria tu che hai attesto nel silenzio la sua parola per noi aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora Maria tu che sei stata così docile davanti al tuo signor aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora che ora vive noi o dio vieni a salvarmi gloria al padre e al figlio e allo spirito santo preghiamo o dio onnipotente ed eterno che hai costituito maria madre del tuo diletto figlio concedi a tutto il popolo italiano che confida nella sua materna protezione di godere sempre i doni dell'unità e della pace te lo chiediamo per il nostro signore gesù cristo tuo figlio che è dio e vive regna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli primo mistero della luce il battesimo nel giordano nel primo mistero della luce contempliamo gesù che viene battezzato nel fiume giordano ascoltate la parola del signore dal vangelo secondo giovanni giovanni battista vedendo gesù venire verso di lui disse ecco l'agnello di dio colui che toglie il peccato del mondo egli è colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che avanti a me perché era prima di me io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse contemplato lo spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha iniziato a battezzare nell'acqua mi disse colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo e io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di dio padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ave maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù che nel battesimo ci rende figli di dio ave maria piena di grazia il signore con te tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù che nel battesimo ci rende figli di dio ave maria piena di grazia il signore con te tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù che nel battesimo ci rende figli di dio ave maria piena di grazia il signore con te tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù che nel battesimo ci rende figli di Dio. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù che nel battesimo ci rende figli di Dio. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù che nel battesimo ci rende figli di Dio. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù che nel battesimo ci rende figli di Dio. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù che nel battesimo ci rende figli di Dio. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù che nel battesimo ci rende figli di Dio. Ave Maria Maria piena di grazia il Signore è con te. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù che nel battesimo ci rende figli di Dio. Ave Maria Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre dei secoli dei secoli. Amen. Santa Maria prega per noi. Santa madre di Dio prega per noi. Figlia prediletta del Padre prega per noi. Stirpe di Abramo prega per noi. Erete della promessa prega per noi. Germoglio di esse prega per noi. Vienezza di Israele prega per noi. Madre dell'unità prega per noi. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate Maria. Secondo mistero della luce. Le notte di Cana. Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù che si manifesta a Cana quale esposo del suo popolo Israele. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di notte a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle notte anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse «Non hanno vino». E Gesù le rispose «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credessero in lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in pecazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sposo della Chiesa. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alle litania rispondiamo, prega per noi. Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, avvocata nostra, prega per noi, mediatrice di grazia, prega per noi, donna della nuova alleanza, prega per noi, sorella dell'umanità, prega per noi, immagine della Chiesa, prega per noi, tu che hai alimentato la mensa di cana, prega per noi. Madre dell'umanità, prega per noi, madre dell'umanità, prega per noi, laudate, laudate, laudate Maria, laudate, laudate Maria. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio. Nel terzo mistero della luce, contempliamo Gesù, che annuncia l'avvento del regno di Dio e invita alla conversione. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca Bene a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Mi fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto. Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato a collunzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli offresti, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'interviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che ci invita alla conversione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che ci invita alla conversione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che ci invita alla conversione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che ci invita alla conversione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che ci invita alla conversione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che ci invita alla conversione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che ci invita alla conversione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che ci invita alla conversione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che ci invita alla conversione. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alle litanie rispondiamo, prega per noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, discepola di Cristo, prega per noi, testimone del Vangelo, prega per noi, beata perché hai creduto. prega per noi, 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 pre Laudate, Maria. Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù che rivela sul tavolo il mistero della sua passione e della sua glorificazione. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendide, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questi è il figlio mio, l'amato. Ascoltatelo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, figlio amato del Padre. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alle litanie rispondiamo, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Donna fedele nell'attesa, prega per noi. Donna fedele nella sequela, prega per noi. Donna fedele presso la croce, prega per noi. Segno di consolazione, prega per noi. Segno di sicura speranza, prega per noi. Madre dell'unità, prega per noi. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Quinto mistero della luce, l'Eucaristia. Nel quinto mistero della luce, contempliamo Gesù, che nell'ultima cena ci rivela l'amore del Padre. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro, Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, pane di vita. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alle litanie rispondiamo, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Piena di grazia, prega per noi. Ponte di bellezza, prega per noi. Tesoro di virtù e sapienza, prega per noi. Frutto primo della redenzione, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Madre dell'unità, prega per noi. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Mater misericordiae, vita dulce do, espes nostra salve. Laudate, laudate Maria. Laudate, laudate Maria. Laudate, laudate Maria. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è la grande eredità dei santi apostoli, dei martiri, dei pastori, delle Beate e Vergini e di tanti generosi discepoli del tuo Figlio. A te, oh Maria, affidiamo la nostra nazione che ti riconosce e ti invoca come madre. Guarda con benevolenza il popolo italiano. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, le sue debolezze e i suoi gesti di bontà. Veglia sulle case e sulle famiglie, sui quartieri e sulle comunità, sulle scuole e gli ospedali, le industrie, gli uffici, i cantieri e tutte le molteplici espressioni dell'operosità quotidiana. Assisti i giovani, i disoccupati, i poveri, gli emarginati, che cercano uno spazio di vita e un soffio di speranza. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso tutta l'umanità, che in ogni parte del mondo soffre e lotta e spera verso un avvenire di giustizia e di pace. Intercedi per noi, o Vergine Maria, Madre dell'Unità, insieme ai Santi Patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina d'Assiena, i Santi delle nostre Chiese particolari e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Risplenda sempre il volto del Padre sulla nostra nazione, sulle nostre città, sui nostri paesi. La tua materna protezione, o Maria, ci accompagna ogni giorno nel cammino del tempo verso l'incontro finale con Cristo nella patria futura. Egli, risorto dai morti e asceso al cielo, nostro Avvocato e Mediatore, vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Grazie. 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 Carissimi tutti, dopo aver affidato la nostra Italia nel giorno che ricorda la sua liberazione, ma che prega perché sia liberata ancora da questa schiavitù del male, da questa schiavitù del coronavirus, continuiamo la nostra preghiera affidandoci all'intercessione di San Marco Evangelista nel giorno della sua festa. Per chi è a casa e prega con noi e segue la liturgia eucaristica che ci apprestiamo a vivere e a condividere, e hanno la tenda, possono seguirla la liturgia alla pagina 203. quest'oggi mi permetto di affidare all'intercessione di San Marco Evangelista della mia ex parrocchia di Castelrozzone, che questa notte è tornata nella patria del cielo, la patria definitiva, liberata dal suo male, ed è entrata nella pace di Dio, nella sanità di Dio, ha poco più di sei mesi di vita. Saluto e prego tanto per il papà Alberto, per la mamma Silvia, per i quattro fratelli Matteo, Chiara, Luca, Sara, per i nonni, paterni e materni, hanno conosciuto questa famiglia. Le ricordo anche perché per qualche tempo hanno condiviso quel momento di dolore con una famiglia della comunità pastorale di Briosco, Capriano, Conaresso, Fornace e Fornacetta, uniti nel dolore, presso l'ospedale dedicato a Papa Giovanni XXIII a Bergamo. Ecco, il Signore sa far incontrare persone diverse e interseca relazioni e storie in modo che non ci sentiamo mai soli, in modo che sappiamo di poter essere sempre sostenuti da qualcuno che continua a ricordarci, cioè a portarci nel cuore e a pregare per noi, affidandoci al Signore. Ecco, cara Anna Francesca, adesso noi ti affidiamo a Dio, a quel Dio che ti ha ripreso nella sua casa e sappiamo di avere così, in cielo, un nuovo angelo che vigila su di noi. Prego anche per tutta la comunità di Casterrozzone, toccata e provata da questo dolore, da questa mancanza. mettiamo anche se lo sguardo di San Marco Evangelista nel suo cuore questa situazione così difficile e di prova che è il tempo del coronavirus, chiedendo proprio che attraverso anche la sua intercessione, la grazia di Dio e l'impegno di tutti, possiamo davvero essere liberati da questo male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli, care sorelle, insieme, prima di accogliere la parola di vita, prima di accogliere la vita del Signor Gesù nell'Eucarestia, perché tutti noi possiamo rinascere a vita nuova, chiediamo perdono ai nostri peccati, affidiamo alla sua misericordia le nostre fragilità e le nostre debolezze. Tu, figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie Eleison. Tu, figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Kyrie Eleison. Tu, figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie Eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore e Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore e Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio che hai glorificato il Tuo evangelista Marco con il dono della predicazione apostolica, fa che alla scuola del Vangelo impariamo anche noi a seguire fedelmente Cristo, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore Lettura della prima lettera di San Pietro Apostolo Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superdi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistete gli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, Egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa era vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la sua fedeltà, perché ho detto è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore. La tua fedeltà nell'Assemblea dei Santi. Chi sulle nube è uguale al Signore, chi è simile al Signore fra i figli degli dei? Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. Beato il popolo che ti sa clamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Ti esulti, ti esalta nella tua giustizia. Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore. La lettura apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza. Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo Carissimo, cerca di venire presto da me perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da Lui perché si è accanito contro la nostra predicazione. nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Parola di Dio. Rendiamo Grazie a Dio Alleluia 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 Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un liento annuncio di bene. Alleluia 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 Il Signore sia con voi Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo il Signore Gesù designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro La messe è abbondante ma sono pochi gli operai Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe Andate Ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi Non portate borsa né sacca né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada In qualunque casa entriate prima dite pace a questa casa Se vi sarà un figlio della pace la vostra pace scenderà su di lui altrimenti ritornerà su di voi Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa non passate da una casa all'altra quando entrerete in una città e vi accoglieranno e dite loro è vicino a voi il regno di Dio Parola del Signore La Chiesa oggi ci affida la festa per questo evangelista Marco la festa per questo portatore a tutta la Chiesa di ogni tempo e luogo della parola di Gesù una parola che ha raccolto dall'esperienza discepolare di Pietro Marco è segretario di Pietro Marco raccoglie le parole dell'esperienza che Pietro ha vissuto insieme a Gesù e le condensa nel suo Vangelo e le offre a noi discepoli perché siano meditate perché siano fonte di vita perché ci aiutino a camminare nell'esistenza familiare comunitaria nell'esperienza dell'umanità vorrei allora sottolineare quattro cose in modo veloce perché così voi possiate poi anche riprenderle nella preghiera personale durante questa giornata la prima cosa che vorrei sottolineare è il fatto che nella prima lettura che Luisa ci ha letto in riferimento alla prima lettera di San Pietro Apostolo Marco viene ovviamente citato viene ovviamente citato come figlio mio che bello avere un rapporto di amicizia che bello essere in una situazione di affinità spirituale anche Pietro chiama Marco figlio mio questa figliolanza spirituale questa amicizia nel Signore questa condivisione nel cammino di fede che non fa diminuire la bellezza dell'essere discepoli ma la aumenta la incentiva la illumina perché i discepoli devono imparare a sostenersi a vicenda ad aiutarsi a vicenda nel cammino della vita tutti siamo sulla stessa barca della difficoltà come abbiamo ascoltato sempre nella prima lettura resistete i saldi nella fede in riferimento al nemico al diavolo al male sapendo che le medesime sofferenze sono imposte anche ai vostri fratelli sparsi per il mondo ecco allora che noi siamo davvero dentro questa vita nella quale sperimentiamo la difficoltà ma le difficoltà anche questo momento di prova che ci è dato e che stiamo vivendo può essere superato affrontato può essere percorso solamente se siamo capaci di aiutarci e sostenerci gli uni gli altri in tante modalità tantissime modalità non ce n'è una sola di modalità di aiuto ce ne sono tante ecco che allora la bellezza di questa amicizia spirituale tra Pietro e Marco diventa un'amicizia che arriva fino a noi e ci arricchisce ci arricchisce consolida i nostri rapporti le nostre relazioni ci interroga sui nostri rapporti sulle nostre relazioni e ci fa capire che tutti tutti nessuno escluso tutti dobbiamo affrontare questo tempo di prova perché in tutte le parti del mondo questa prova c'è come abbiamo ascoltato nella prima lettura ecco allora San Marco tu che hai coltivato una grande amicizia con Pietro e attraverso Pietro sei arrivato a comprendere l'amicizia che il Signore Gesù aveva anche per te ecco aiutaci a crescere in questa amicizia spirituale e anche un'amicizia fattiva di fronte alle difficoltà della vita aiuta a rafforzare in noi aiuta a rafforzare tra di noi i legami di amicizia che vanno al di là degli interessi ma che sono resi grandi dall'affetto gli uni verso gli altri solo l'amore vicendevole ci porterà fuori da questa situazione un amore che diventa responsabilità un po' sofferta ma responsabilità ecco che allora questo primo pensiero lo affido alla vostra preghiera per questa giornata così come vi affido anche il secondo pensiero che raccogliamo da salmo responsoriale che abbiamo condiviso pregato sempre Luisa ci ha affidato la parola del salmo annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore non la nostra salvezza nessuno di noi si salva per la buona volontà ci salviamo se confidiamo nell'amore di Dio lo vediamo lo sperimentiamo il sentore di morte che c'è attorno il palpabile e faticoso lottare quotidiano la nostra incapacità di trovare una soluzione stabile a questo coronavirus la nostra totale impotenza di fronte a questa situazione e di fronte anche al dover lasciare andare i nostri cari senza salutarli senza poterli confortare un'ultima volta ecco che noi dobbiamo fare risuonare sempre di più e con più forza soprattutto noi cristiani che abbiamo celebrato la Pasqua che abbiamo ricevuto nel cuore nella mente nella vita l'annuncio della risurrezione dobbiamo dire a tutti annuncio a te la salvezza del Signore caro fratello cara sorella che pensi di salvarti da solo che pensi di essere tu l'unico protagonista della vita ricordati benedetto colui che viene nel nome del Signore osanna 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 nell'alto dei cieli osanna 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 nell'alto dei cieli veramente santo sei tuo padre fonte di ogni santità santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore egli offrendosi liberamente alla sua passione prese il pane e rese grazie lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede annunciamo la tua morte Signore proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo padre il pane della vita il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo umilmente per la comunione al copo e al sangue di Cristo lo spirito santo ci riunisca in un solo corpo ricordati padre della tua chiesa diffusa su tutta la terra rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro papa Francesco il nostro vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale ricordati della nostra piccola sorella Anna Francesca che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo figlio così rendila partecipe della sua risurrezione ricordati anche di tutti i defunti in modo particolare dei defunti per il coronavirus che si affidano la tua clemenza ammettili a godere la luce del tuo volto di noi tutti abbi misericordia donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la beata Maria Vergine Madre di Dio con San Giuseppe suo castissimo sposo con gli apostoli con Sant'Ambrogio San Carlo San Vittore Santo Stefano i tre santi fanciulli San Marco Evangelista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli come figli obbedienti e riconoscenti rivolgiamoci anche noi a Dio chiamandolo così Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male liberaci o Signore da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo pace Marco pace a questa casa abbiamo ascoltato il Signore risorto offre ai Suoi discepoli di ogni tempo e di ogni luogo il dono prezioso della risurrezione la pace sapere che siamo nel cuore di Dio che siamo vicini a Lui che Lui non si dimentica di noi porta pace nei nostri cuori ecco allora chiediamo questo dono per tutti noi e le nostre famiglie per tutta la Chiesa sparsa nel mondo intero per l'umanità sofferente per la nostra Italia Signore Gesù Cristo che hai detto ai Tuoi Apostoli vi lascio la pace vi do la mia pace non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà tu che comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi beati noi perché siamo invitati a partecipare nuovamente alla mensa della nostra salvezza della nostra vita eccolo Gesù ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo in spirituale sentendoci tutti uniti nel Signore Signore credo che sei realmente presente di Dio di Dio che ti amano sopra ogni cosa e ti desidero dell'anima mia poi che ora posso riceverti sacro mentalmente nel Dio come come già venuto io ti abbraccio e riunisco tutto a te non permettere che abbia mai separati da te di Dio di Dio di Dio e di Dio io ti offro un santo preziosissimo di tuo figlio in fronte dei miei piccati in subragio delle armi del dute d'orio e per i bisogni della santa città amin tu sei la mia vita tuo io non tu sei la mia scada la mia peridò nella tua parola io cammino fin che aparez mio non avrò paura sai se tu sei con me io ti prego resta con me preghiamo Dio onnipotente il dono ricevuto alla tua mensa ci santifichi e ci confermi nella fedeltà al Vangelo che San Marco ha trasmesso alla tua chiesa per Cristo nostro Signore invochiamo la solenne benedizione per intercessione di San Marco su tutti noi sulle nostre famiglie su tutta la chiesa sull'Italia invochiamo la benedizione di San riempie riempie il nostro cuore e ci dà forza e coraggio per affrontare tutto il Signore sia con voi i chiedi chiedi che c'è il Dio nostro Padre che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Marco Evangelista vi protegga e vi confermi nella sua pace Cristo Signore che ha manifestato in San Marco Evangelista la forza rinnovatrice della Pasqua vi renda autentici testimoni del suo Vangelo lo Spirito Santo che in San Marco Evangelista ci ha offerto un esempio di totale adesione al Vangelo vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa e per i meriti e per l'intercessione di San Marco Evangelista la benedizione di Dio Onnipotente che è Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi tutti rimanga sempre andiamo in pace a tutti buona giornata della liberazione a tutti una buona domenica ci vediamo domani alle ore undici e un quarto celebreremo l'Eucarestia dalla Chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Capriano buona giornata a tutti grazie a tutti tutti Grazie a tutti. Peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.